L'Italia in prima linea per portare soccorso alle popolazioni devastate dal terremoto che ha squarciato i territori a confine tra Siria e Turchia. Aiuti per mare e per terra, tanto per prendere in prestito il motto dei fucilieri di marina. E a proposito di marina militare, nave San Marco è pronta a partire da Brindisi. Nei prossimi giorni trasporterà sul posto un ospedale da campo che la regione Piemonte ha messo a disposizione della protezione civile. Un aiuto concreto, tangibile e necessario come l'ossigeno che manca sotto le macerie. L'unità navale messa a disposizione dal Ministero della Difesa trasporterà anche altri beni di primaria necessità per aiutare le popolazioni colpite dal sisma, come ha assicurato il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci. Intanto, sempre da Brindisi, il Consolato turco si sta mobilitando. Una raccolta di indumenti da inviare nel sud-ovest del paese. Tutto sarà spedito dall'aeroporto di Bari con volo della Turkish Airlines. Un paio di guanti, un paio di calze e tante gocce insieme formano un fiume di solidarietà, di sollievo e amore verso queste persone. E' scritto così nell'appello fatto girare su WhatsApp dai volontari. Il primo carico dovrebbe partire venerdì.